Fra i tanti prodotti anche il grano di solina che è un grano tenero in grado di valorizzare queste montagne ma soprattutto offrire dei prodotti a bassissimo contenuto di glutine per cui ecco contrariamente ai grani moderni, ai grani industriali è in grado di offrire ancora non solo sapori assolutamente unici ma anche dal punto di vista nutrizionale dei principi molto salutistici. Insieme alle altre aziende agricole abbiamo cercato di creare appunto questa rete sia per la valorizzazione dei prodotti biologici che questa montagna è in grado di esprimere sia anche per creare un'offerta dell'agroalimentare molto variegata. Qui abbiamo dei prodotti di assoluta eccellenza come lo zafferano dell'Aquila, come legumi assolutamente dimenticati dall'agroindustria che ancora riescono a produrre in alta quota delle eccellenze come le lenticchie, come il fagiolo della valle del Sagittario e quindi ecco un assortimento veramente unico. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!